Siamo venuti in piedi, standing in the nation ragazzi, il capitale di Piazza di Gianni, Caprizio! Voglio prendervi un secondo, oggi è una giornata di festa, però vi voglio permettere, signor Presidente, di tutti i portanti, la notte mi parla di mettere il papà di una nostra caneta, la notte di una consola, vorrei fare un minuto di silenzio nella memoria del papà. Grazie.